La nostra epoca era immaginata in passato in modo molto diverso. I vecchi B-movies si aspettavano che il futuro fosse pieno di metallo, spigoloso, duro, freddo, scomodo e lontanissimo da tutto ciò che reputiamo naturale. Andres Lara Quente, ospita allo spazio d'Eva con la mostra Holding e X-Corporing, ci offre una prospettiva diversa. Oggetti soffici, di silicone, forme dolci che ricordano i personaggi dei cartoni animati come Topolino o Kermit la rana. Non sono polite e perfette, queste sono piene di sporcizia, non evocano un mondo ideale, completamente asettico ed alieno, ma è il nostro in tutta la sua imperfezione. Lara Quente, artista statunitense classe 1987, nel suo percorso artistico svolge un lavoro di ricerca improntata ad esplorare il rapporto fra l'uomo e la tecnologia, evidenziando più che altro intersezioni fra questi due mondi. Per la creazione di queste opere si è ispirato ad un aspetto della città di Firenze, sempre sotto continua ristrutturazione, come se fosse coperta di cerotti. Vuole evocare le protesi mediche, i sex toys, la pelle degli androidi e maschere per gli effetti speciali del cinema. Il silicone è il materiale del nostro presente, una sostanza che sembra un'imitazione del biologico e da essa eredita la capacità di invecchiare. La mostra di Andressa Lara Quente si è svolta recentemente allo spazio d'Eva.